Sono stati consegnati questa mattina in tutto, sono quattro pulmini nuovi di Zecca finanziati dal Galetna per un importo complessivo di 180.000 euro e che da oggi saranno a disposizione dei comuni di Adrano, Biancavilla e Centuri per Catena Nuova. I mezzi serviranno principalmente per promuovere il turismo nel nostro comprensorio come spiega il sindaco di Adrano Pippo Ferrante ai nostri microfoni. Il Galetna ha finanziato questo progetto di circa 180.000 euro con quattro pulmini che saranno a disposizione di queste quattro comunità, Adrano, Biancavilla, Centuri e Catena Nuova. I quattro pulmini rimangono in rete nel senso che se un comune ha una necessità particolare potranno essere utilizzati da ciascun comune, tutti e quattro. Non è il primo finanziamento che riceviamo nell'ambito del turismo perché questi pulmini serviranno ad accompagnare i turisti nei nostri monumenti. Già dal Galetna il comune di Adrano per esempio aveva ricevuto un finanziamento sia per la segnaletica dei nostri monumenti sia per la segnaletica stradale monumentale. Quindi un ottimo risultato a dimostrazione che il Galetna rimane uno strumento che sa spendere i soldi della comunità e che utilizza questi progetti per portare dei servizi nei nostri paesi. I quattro pulmini sono stati benedetti in piazza Umberto ad Adrano da Monsignor Alfiorreina alla presenza del sindaco di Adrano Pippo Ferrante di Elio Galvagno e Aldo Biondi rispettivamente sindaci di Centuri per Catena Nuova. Per il comune di Biancavilla presenti il vice sindaco Pippo Sapienze e l'assessore comunale Grazia Ventura. Sono a servizio della collettività che grazie al Galetna abbiamo potuto avere incomodato d'uso. serviranno chiaramente per poter conoscere meglio ancora la nostra provincia, il parco dell'Etna e tutti i posti, tutte le cose che avranno bisogno dell'ausilio di questi pulmini. Intanto bisogna dire che noi e Centuri pensiamo i due comuni della provincia di Enna che abbiamo aderito al Gal dell'Etna. È da tempo che ci lavoriamo e oggi finalmente abbiamo avuto un risultato che è questo dei pulmini che servono per gli anziani, per le gite turistiche eccetera. Quindi diciamo che è un risultato positivo. Grazie al lavoro che hanno svolto il presidente del Galle, il sindaco di Biancavilla e del campo che è effettivamente l'amenda di questo Galle, colui il quale è presente ai progetti. Noi credo che dobbiamo continuare in questo senso per lo sviluppo turistico, economico e sociale del nostro territorio. Quindi noi restiamo fermi al Galle dell'Etna e quindi con la speranza che possiamo raggiungere traguardi migliori. È una bella occasione che è andata a Bonvine e iniziamo dal poco. Proprio poco fa discutavamo su come utilizzarli nell'immediato non potendoli utilizzare certamente per un turismo che venga da fuori intanto iniziamo con i locali. Per esempio il settore degli anziani, portare i centuripini ad Adrano a visitare il meraviglioso museo, il castello e tantissime altre cose o per esempio valorizzare il museo archeologico di Centuri che per quanto riguarda l'arte romana è uno dei più attrezzati se non il migliore da Roma in giù. E quindi vediamo già nell'immediato di concretizzare piccoli progetti per poi passare a grandi cose. Le opportunità ci sono e questa iniziativa può anche essere implementata perché abbiamo l'occasione dei nuovi bandi che usciranno da qui a poco. Per cui partendo da questa esperienza io credo che i comuni mettendoci dentro anche l'area SNAI perché sappiamo benissimo che Adrano, Centuri e Biancavilla sono nell'area SNAI, io credo che potremo fare delle cose utili per il territorio.